ciao a tutti e benvenuti a gioca con me giochi per bambini in questo video voglio far vedere questo nuovo kit della barbie che viene appunto dal film barbie e la porta segreta in questo kit è appunto quello di una principessa con questo vestito molto bello il cartone animato è uscito nel 2014 quindi più o meno un annetto fa ed è un kit appunto per bambini sopra i tre anni naturalmente dei nostri amici della Mattel e come vedete qua insomma la funzione principale è quella di produrre musica nel momento in cui il braccio con lo scettro si muove e si illuminerà appunto la parte superiore del suo vestito e ora lo apriamo e ci proviamo insieme ecco qui la nostra principessa e come vedete vi appunto vi descrivevo anche prima c'è questo scettro rosa questa corona questo diadema con i fiori questo vestito nella parte sopra quindi questo corpetto che è di plastica con vari fiori colorati sempre infatti di plastica questa gonna super lunga con alcuni fiori vedete sempre in plastica attaccati così cuciti altrimenti è molto colorata sul lato frontale mentre dietro è completamente rosa e come vedete ha questi sandali queste scarpe che sono molto carine sempre su rosa e con questo fiore che insomma chiude il sandalo sulla caviglia veramente veramente carina anche i capelli sono tipici barbie e ora vi faccio vedere appunto la funzione che vi descrivevo prima quindi quello che si fa è il momento in cui lo scettro e quindi il braccio quindi viene spinto verso il basso sentito quindi c'è la prima musichetta ed ecco qui la seconda ci sono solamente due musiche perché se schiaccia ancora vedete riparte con la musica la prima che abbiamo sentito insomma queste sono appunto canzoni che derivano dal film da cartone matrivi scrivevo prima quindi quello della della nostra principessa e le braccia niente sono abbastanza mobile nel senso quella dello scettro ovviamente si muove solo per produrre la musica l'altro è flessibile le gambe in realtà no sono rigide si può ovviamente sedere ma non se le ginocchia non si piegano e niente ecco qua spero che questo video vi sia piaciuto dovete assolutamente provare questa barbie credo che l'idea per sé sia molto carina con la musica naturalmente fatemi sapere cosa ne pensate lasciate qui sotto nei vostri commenti e continuate a seguirci alla prossima volta ciao